Carte alla mano hanno guardato le corse degli autobus negli orari che creano problemi agli studenti delle superiori, ovvero l'ingresso alle 10 e l'uscita alle 15. I rappresentanti degli studenti sono stati ascoltati in prefettura dal prefetto Ignazio Portelli e dal capo di gabinetto Viaggio del Prete. A loro hanno esposto le varie criticità delle tratte, come la Monte San Giovanni Campano-Frosinone, Frosinone-Patrica-Ripi-Torrice, i collegamenti della Valle dei Santi con Ponte Corvo e Cassino, dove ci sono studenti che arrivano anche da fuori regione. Abbiamo riportato tutti i problemi, soprattutto legati alle tratte e agli orari. Sapevamo che con questo rientro le necessità sarebbero state tante, ma ci siamo sempre battuti anche con gli altri rappresentanti per un rientro in presenza. Siamo contentissimi di questo rientro e speriamo però che le condizioni miglioreranno, perché i ragazzi ad oggi hanno parecchi problemi ad andare e a ritornare da scuola. Siamo stati contenti del confronto e vedremo come andrà, sperando che vada per il meglio. L'obiettivo è comune, rientrare in classe in sicurezza. Dobbiamo trovare in maniera più intelligente e funzionale possibile la soluzione per poterle traslare in un'ottica provinciale. Lo stiamo facendo comunque nel rispetto di quelle che sono le posizioni ministeriali, quindi sullo scaglionamento, se non si potrà fare nulla o sul numero di ragazzi in presenza, se non si potrà fare nulla. Comunque noi abbiamo cercato di portare avanti le perplessità, specialmente nelle tratte. Siamo fiduciosi perché siamo stati ascoltati. Si interverrà sul piano trasporti stilato a dicembre, un piano corregibile in base alle esigenze del territorio, come già fatto per il liceo scientifico sul piccio di Veroli. Come diciamo sempre, il piano non è un documento stabile, è un documento dinamico che va alimentato dalle esigenze che pervengono dal territorio. Ogni volta che arrivano delle istanze qualificate cerchiamo di verificarle e poi di inserire delle nuove disponibilità nelle tratte lungo il territorio provinciale. Abbiamo già ricepito una istanza dell'Istituto sul piccio di Veroli e siamo riusciti a inserire una corsa in più rispetto al piano del 24 su Sora Veroli. Altre le stiamo verificando e quindi vedremo di migliorare il servizio. L'obiettivo nostro è di assicurare la presenza degli studenti in sicurezza.